Sul sito del Comune di Battipaglia è stato pubblicato l'avviso pubblico avente scadenza a venerdì 31 agosto alle ore 12 per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per la stagione 2018-2019, palestra Puglisi e palazzetto Schiavo. La pubblicazione è poche settimane dalla riapertura delle attività sportive per la stagione 2018-2019 ed ancora una volta il Comune di Battipaglia gestirà i due palazzetti. L'avviso pubblico è rivolto alle società, associazioni e agli atleti ad utilizzare la struttura nelle sei fasce orari infrasettimanali dalle 15 alle 21 e durante gli orari federali nei fine settimana. Inoltre sono in via di definizione anche i costi per le attività da parte del Comune, quindi per il terzo anno consecutivo sarà ancora una volta l'ente comunale a dover gestire i due impianti sportivi più grandi ed importanti della città di Battipaglia.